Alessandro Del Gallo, sette giorni che difficilmente si dimenticheranno, sei gol ma soprattutto nessuno subito e due vittorie prestigiose contro l'Aquila e Alba Adriatica. Sì, oggi va fatto un plauso ai ragazzi perché hanno fatto una partita simile a quella dell'Aquila ma contro una squadra che veramente sa giocare bene. Infatti faccio i complimenti perché veramente ci hanno messo in difficoltà, però siamo stati bravi ogni volta a ripartire, siamo ripartiti bene. Abbiamo trovato i gol nel momento giusto, forse potevamo fare pure qualche gol in più, però rispetto Massimo per quest'Alba Adriatica che viene con tanti fuori quota. Ripeto, giro tanti complimenti ai miei ma anche alla squadra avversaria. Mister, rispetto al passato, meno possesso palla, più concretezza da parte dell'ospoltore? Sì, abbiamo scelto di fare un modo diverso di andarli a prendere perché abbiamo visto che abbiamo preso tanti gol, soprattutto in ripartenze. Con questa umiltà e con questa voglia, ripeto, secondo me possiamo fare un buon campionato. Mister D'Amicis, un ritorno a casa purtroppo amaro, un 3-0 forse anche troppo pesante. Mister De Gallo pochi istanti fa ha fatto i complimenti all'Alba Adriatica per la partita che ha disputato, che la dice lunga. Sì, è stata una partita, se vogliamo, anche strana perché è giocata, secondo me, bene nel primo tempo e potevamo passare in vantaggio noi. Loro veramente nell'unica occasione che hanno avuto nel primo tempo hanno trovato questo orogole, è stato un gol bellissimo, complimenti al giocatore dello spoltore. Poi nel secondo tempo invece non mi è piaciuto l'atteggiamento perché abbiamo perso compattezza, cioè tu puoi tenere l'1-0 fino a ciumulto alla fine, magari viene fuori qualcosa. Così, in quel modo lì, loro ogni volta che ripartivano, soprattutto negli ultimi 20 minuti, sono andati in porta. Quello non mi è piaciuto assolutamente, abbiamo perso un po' la testa, diciamo questo. E' mancato un po' di lucidità negli ultimi 20 metri? Assolutamente sì, non era facile perché lo spoltore ha preparato quel tipo di partita aspettandoci tutte e dieci nel proprio metà campo, per cui non era neanche facile. Però noi potevamo mettere un pochettino più di qualità, soprattutto quando ripartivamo abbiamo sbagliato abbastanza. Devo riconoscere che lo spoltore, tutto sommato, ha meritato questa vittoria, anche se il passivo è abbastanza pesante, perché ripeto, noi abbiamo costruito anche abbastanza, soprattutto nel primo tempo, ci abbiamo provato in tutti i modi. Però loro oggi ci hanno dato veramente, secondo me, una lezione di compattezza e umiltà. Loro veramente hanno fatto la partita che dovevano fare, chiusi lì e ripartendo, hanno sfruttato le loro caratteristiche, al meglio ci sono riusciti, complimenti allo spoltore. Noi non meritavamo un passivo così pesante, però ripeto, nel secondo tempo la squadra non a me è piaciuta e dobbiamo ritornare un po' con i piedi per terra.